Nessun studente verrà lasciato fuori dalle classi perché non vaccinato. È quanto ha spiegato la Regione Emilia-Romagna nell'ultimo fine settimana all'avvicinarsi della fatidica scadenza sull'obbligo delle vaccinazioni. Era infatti fissato per il 10 marzo il termine ultimo per presentare tutta la documentazione sul piano vaccinale come stabilito dalla nuova legge del Ministero della Salute. Una scadenza che riguarda coloro che avevano iniziato l'anno presentando un'autocertificazione e che sono stati chiamati quindi a mostrare le prove del completamento del percorso sanitario. Una deadline, quella di sabato, che in realtà aveva già completato il suo corso da tempo. In Emilia-Romagna infatti solo un numero ridottissimo di bambini non erano stati vaccinate all'inizio dell'anno scolastico con numeri che ad esempio nella provincia di Rimini parlano del 93% di alunni che avevano già completato tutto il percorso. In ogni caso rassicura la Regione per quanto riguarda l'anno in corso non verranno presi provvedimenti in quanto verrà lasciato tutto il tempo per rimediare ad eventuali ritardi. Dal 2019 però ci si atterrà fedelmente a quanto fissato alla legge che parla chiaro i bambini di età inferiore a 6 anni che non saranno vaccinati non verranno ammessi né alla scuola materna né al nido. Discorso più complicato per quanto riguarda la scuola dell'obbligo dove sono previste sanzioni che vanno da 500 a 7500 euro a seconda della gravità dell'adempimento.